Un violento litigio finito a coltellate. Potrebbe essere questa la spiegazione del grave ferimento di un uomo di 30 anni raggiunto da alcuni fendenti al busto sferrati con un'arma da taglio la notte scorsa a Foggia. Il fatto è accaduto alla periferia del capologo Dauno, in via Mogadiscio, nei pressi dello stadio Zaccheria. A seguito dell'accoltellamento, la vittima è stata raggiunta e soccorsa dal personale del 118 e poi trasferita in ambulanza presso il Policlinico Riuniti. Il trentenne, secondo il parere dei medici, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, assieme ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Foggia, che hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scattata a seguito di una violenta discussione in strada, finita poi a coltellate. Non sono ancora chiari, tuttavia, i motivi che avrebbero scatenato la lite. I militari stanno verificando la presenza di telecamere di sicurezza nella zona dell'accoltellamento e che potrebbero aver immortalato il responsabile prima che facesse perdere le proprie tracce.